Siamo negli studi di Aska News per parlare di editoria, in particolare di editoria digitale. Lo facciamo con l'ingegnere Giacomo Bruno, presidente e fondatore della Bruno Editore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è stato definito il papà degli e-book perché proprio nel 2002 ha portato gli e-book in Italia. I dati dell'Associazione Italiana Editori ci dicono che il libro tradizionale è in calo, le vendite sono in calo, mentre gli e-book sono in crescita. È proprio così, ingegnere? È proprio così, è il momento dell'e-book, finalmente è arrivato dopo tanti anni, l'e-book ha fatto in Italia il 6,3%, ma soprattutto un fatturato di 67 milioni di euro, che poi non è nulla in confronto a quello che succede nel mondo, parliamo di 13 miliardi di dollari contro i 10 miliardi dei libri nelle librerie, quindi un sorpasso ormai certificato. Però la notizia, che è proprio di questi giorni più importante, è che l'e-book ha raggiunto un miliardo di lettori, cioè un miliardo di persone che leggono in digitale. Allora, noi non parliamo soltanto di narrativa, parliamo anche di formazione, ma il libro, secondo lei, può essere uno strumento di marketing? Assolutamente, il libro oggi è il nuovo biglietto da visita. Imprenditori, professionisti, anche dipendenti che oggi nel mercato confuso, pieno di messaggi, non sanno più come emergere, rimangono nell'anonimato. E quindi scrivere un libro gli permette di farsi conoscere, di far conoscere il proprio valore, di farsi conoscere dai clienti, far conoscere i servizi, i prodotti, quindi come proprio un nuovo biglietto da visita. Ci sono persone, tra i nostri autori, in Brun Editore, che hanno raggiunto risultati incredibili usando il libro proprio come strumento per farsi conoscere, persone che hanno guadagnato dai 10 mila euro ai 5 milioni di euro, tanto che sono finiti nelle classifiche degli autori, degli scrittori italiani più pagati in Italia. Parlando proprio di classifiche, lei ha oltre 600 libri nelle top 10 di Amazon. Ma come si diventa bestseller? È un grande segreto, è quello che io chiamo essere un po' un book influencer, è questo nuovo termine che rappresenta un misto tra avere numeri e avere autorevolezza. Ovviamente noi l'abbiamo costruita in 20 anni di carriera, in 20 anni dal 2002 ad oggi. Avere numeri che vuol dire? Avere numeri sui social, noi abbiamo 1.200.000 follower tra Facebook e Instagram, abbiamo 150.000 persone iscritte alla newsletter di Brun Editore. Quindi quando esce un nuovo libro, chiaramente c'è la corsa al download, tutti vanno e il libro schizza nelle classifiche. Lei ha fatto una magia, diciamo, seguendo e promuovendo il libro di Gwyneth Paltrow. In sole 5 ore è diventato bestseller numero 1, ma può farlo con qualsiasi libro? Possiamo farlo con qualsiasi libro, sì, perché come detto è questione di numeri, di autorevolezza. L'abbiamo fatto per The Clean Plate, il libro di ricette di Gwyneth Paltrow, è arrivato numero 1 nella sua categoria. Lo abbiamo fatto anche per un romanzo, che è un po' fuori dai nostri libri di formazione, quello di Matteo Viviani, conduttore delle Iene, che ha scalato, pensi, 90.000 posizioni nell'arco di poche ore, arrivando nella top 10 di Amazon. Allora, lei è top player negli ebook, ma secondo lei qual è il futuro dell'editoria in Italia? Il futuro dell'editoria è un'editoria social. Che vuol dire social? Un'editoria fatta di persone che cercano online. Oggi i lettori, prima di comprare un libro, magari chiedono un consiglio nei gruppi Facebook, magari fanno una ricerca, cercano l'autore, vogliono sapere chi è l'autore che ha scritto un libro, soprattutto nel mondo dei manuali, della formazione. Vogliono sapere da chi apprendono queste informazioni. Quindi se gli autori, se gli editori non si adeguano a questa novità, non hanno i profili aggiornati, non stanno a dominare un po' il mondo del digitale, finiranno presto fuori mercato. Ingegner Bruno, un consiglio a chi vuole scrivere un libro? Scrivere un libro? Io dico di partire da se stessi. Partire da se stessi perché bisogna saper raccontare la propria storia, che magari è fatta di successi, è fatta anche di insuccessi, spesso più di insuccessi. Però è proprio da quelli che oggi chiamiamo fallimenti, che arrivano i migliori insegnamenti. E sono quelli che poi condividiamo nei nostri libri, condividiamo con le persone, aiutiamo gli altri a raggiungere, a superare cose che noi magari siamo riusciti a superare. Con questo sistema Bruno Editore negli anni ha aiutato già 1.800.000 persone.